Stilato il programma triennale delle opere pubbliche a Salerno, fondi e investimenti importanti che ridaranno ossigeno all'economia ma soprattutto serviranno a riprendere molti comparti della città. Ora ovvio bisognerà passare dalla teoria alla pratica, mettere a regime quanto stabilito, ma c'è un cronoprogramma da rispettare ed è già tanto. Intanto, ed è questa una novità assoluta, dopo anni di totale immobilismo si è ritornato ad investire nello sport. Sono stati previsti infatti fondi per la ristrutturazione e l'adeguamento dei campi sportivi di calcio 24 maggio, Rinaldo Settembrini e Alcide De Gasperi. I tre impianti ritornati nella disponibilità dell'amministrazione comunale di Salerno saranno riqualificati e restituiti alla collettività. Nello specifico sono stati previsti 320 mila euro per il De Gasperi, 470 mila euro per il 24 maggio, 380 mila euro per il Settembrini. I soldi dovranno essere recuperati dal Fondo Nazionale Sport e Periferie. Ma non è finita qui. 20 milioni di euro sono stati previsti per la riqualificazione urbana ed edilizia dello stadio Vestuti. La ristrutturazione dell'impianto rientra nei programmi di intervento previsti dalla regione Campania per le universiadi del 2019. Mancano all'appello, per il momento, interventi di realizzazione ex novo di impianti coperti da dedicare alle discipline olimpiche. Ma qualcosa da tempo bolle in pentola. Ci sta lavorando con dedizione l'assessore all'ambiente e allo sport Angelo Caramanno. A breve ci potrebbero essere importanti novità al riguardo. Non solo sport. Nella programma triennale delle opere pubbliche compaiono anche lavori di riqualificazione per il teatro Ghirelli. Poi uno stanziamento di 10 milioni di euro per la realizzazione del parcheggio multipiano a piazza Lario da tempo, contestato da comitati e parte dei residenti, ma sempre prioritario nei programmi dell'amministrazione comunale, così come il parcheggio interrato a piazza Cavour, per il quale però si attende la decisione del TAR in merito al ricorso presentato dalla Andreozzi Costruzioni che si è vista revocare l'appalto dal comune di Salerno. Tra gli altri interventi previsti nel piano triennale anche la realizzazione di un nuovo cimitero urbano che dovrebbe sorgere nei pressi di San Mango, la nuova stazione degli autobus in zona Rechi e tutti gli interventi legati al completamento di Piazza della Libertà. Grazie a tutti.